buongiorno sono marco consulente nissan di gruppo carmeli oggi ti presento la nissan lift ecna 40 kilowatt fettura totalmente elettrica con ben 270 km di autonomia le sue linee decise ed eleganti si fanno notare grazie ai fari a led autolivellanti e ai cerchi in lega da 17 pollici dimensioni compatte non vanno a discapito dell'abitabilità il baule da 435 litri e i cinque comodi posti rivestiti in pelle alcantara riscaldabili ne sono la prova sulla nissan lift viene proposto il massimo della tecnologia nissan come il sistema pro pilot attivabile con un tasto che ti aiuta a monitorare la vettura che ti precede mantenere la distanza preimpostata e rimanere al centro della corsia oltre alla possibilità di guidarla nella comode funzione eco per ottimizzare il consumo della batteria e b mode per avere reazioni più immediate potrei utilizzare la divertente funzione e pedal accelerare rallentare frenare con il solo pedale dell'acceleratura sulla plancia è presente un navigatore da 8 pollici touch con integrazione smartphone e sistema audio premium Bose con sette altoparlanti la nissan lift è intelligente interviene quando ne hai bisogno grazie alla ferrata d'emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti il sistema di rilevamento posteriore degli ostacoli movimento copertura dell'angolo cieco e prevenzione cambio di corsia involontari per ricaricare la vettura è sufficiente collegarsi alla normale presa di casa o se sei in movimento all'ampia rete di ricarica veloce se ti è piaciuto il video lascia un commento qui sotto o chiamaci allo 030 7724 011 i nostri consulenti saranno a tua disposizione